Siamo qui al Motor Show di Bologna, lo stand delle Rani Team con Thomas Piaggi che nel 2007 ha trionfato nel campionato FIA GT. Qual è stata l'emozione di portare il tricolore sul podio? Diciamo che è un'emozione sempre grandissima, soprattutto in un campionato così competitivo, così importante, dove ci sono presenti tante case, tante nazioni, tanti piloti, con addirittura un passato in Formula 1 importantissimo come Carl Vendlinger, piuttosto che Pedro Lami, gente che in Formula 1 erano considerati ai massimi livelli e peraltro portare il tricolore in testa a un campionato con una vettura italiana, per me veramente c'è il grande orgoglio di essere italiano e di aver trionfato con un pacchetto al 100% made in Italy. Ci puoi dare qualche anticipazione per il 2008? L'unica cosa che posso dire è che in questo mestiere non è sufficiente vincere, l'amico Riccardo Errani lo sa molto bene, quindi l'unica cosa che posso dire è che sicuramente, perché da questo punto di vista ho un contratto, ma un contratto affettivo, rimarrò con un marchio italiano che sia Ferrari o Maserati, perché il mio orgoglio è quello di correre rappresentare l'Italia al 100% all'estero e quindi nel mio piccolo continuerò sicuramente in quest'ottica. Grazie! 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 Grazie!